Cos'è un home studio recording? Semplice, è uno studio di registrazione in ambito casalingo o comunque non professionale. Il suo successo è in continua crescita grazie all'aumento di dispositivi di registrazione analogici e digitali ad un prezzo accessibile anche ai non professionisti. Un home studio recording si basa principalmente su una DAV o Digital Audio Workstation che spesso è composta da un computer, PC o Mac, strumenti acustici o sintetizzati, un'interfaccia audio, microfoni e un software di registrazione. Con l'aiuto di sequenze professionali come Hubleton Live, Cubase e Sonar si può minimizzare la necessità di possedere grandi dispositivi audio esterni come console per il missaggio e tastiere. Ritmix vi propone un corso di 30 ore per insegnarvi ad usare tutto questo. Registrare da soli la vostra musica, a casa vostra, nel vostro home studio recording. Registrare da soli la vostra musica, a casa vostra, nel vostro home studio e a casa vostra, nel vostro home studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.